Il senso che abbiamo voluto dare quest'anno a questa iniziativa è quella soprattutto di auspicare che l'ambiente, la salute e il lavoro siano valori condivisi da tutti i cittadini e soprattutto che il lavoro non significhi industrie pesanti, invasive e trasmettitori di cancro. Questo benessere, la bellezza che ci sono in questo territorio. Avevano ben capito il 2700 anni fa i greci che vennero qui in queste zone a fondare Taranto perché Taranto è una fondazione e non è mai stata una colonia la Taranto greca e per cui l'auspicio, l'auguro e la speranza che i tarantini si riscattino e volino e che non vengono più considerati e questo territorio non venga più considerato una colonia ma un territorio, una popolazione che può vivere e può volare alto come merita per le bellezze che ha e per il cuore grande della gente che è in questo territorio. Con rispetto dei lavoratori, con rispetto dell'ambiente e la salvaguardia della salute. Questo è il senso che abbiamo voluto dare e questo è il modo che abbiamo per esprimere l'amore per questa città, auguri Taranto. Che questo è fatto, anche questa meravigliosa giornata di Sule ce la siamo permessa in archivio. Siamo qui dalla spiaggia, dal mare più bello del mondo quindi forza a Taranto e tanti auguri alla Tarantina. Grazie a tutti.